Musica Bella raga qui Alfie Game Ecco qua e benvenuti in un nuovo episodio di E state con Alfie Game E benvenuti su LittleBigPlanet3 Quello che voglio fare oggi è giocare Tre livelli della comunità che sono Davvero belli ma davvero Grandi ma davvero fantastici Ma davvero incredibili Perché questo video è fantastico solamente perché io sono questo Ecco muovo il bacino Muovo la testa si 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 e muovo le mani Yeee ok E allora accediamo subito Ah comunque mi piace il pod perché tipo il mio pod Era tipo nudo Vuoto senza niente ho detto no Bisogna farci il video decoriamolo un po' L'ho decorato un po' con le mie cose insomma Tecnologie non solo vorrei ben dire Allora iniziamo Andiamo su gioca su comunità E cerchiamo tre livelli che io Già mi sono settato Ehm messo nei preferiti Perfetto lagga tutto Ok Contenuti cui ho assegnato un cuore Il primo contenuto Beh Ehm me ne sono un po' scelto Un livello Tutti i livelli li ho solamente aperti la prima volta Però non li ho giocati Un livello che si chiama Cut Off Line LittleBigPlanet è un gioco Platform ma anche un Diciamo molto Sandbox Che permette di creare Dei propri livelli Delle proprie cose Addirittura cinematica Su LittleBigPlanet 3 Quindi E' davvero una cosa Molto divertente Che è impossibile caricare il livello Ma come Ma come Ok Bello Comunità Riproviamoci Ok E siamo qua Ehm Noi abbiamo a disposizione Beh Ma non lo so Ma vediamo cosa c'è Allora Ricordo che Ok una volta questo tipo parlava Le forbici me le ha date Perché praticamente bisogna fare Una volta parlava il tipo comunque O forse tipo mi ha salvato tipo qualcosa Perché tipo l'omino me lo ricordavo che stava qua Boh forse qualche continuo Non lo so Andrò in modo Forbici Equipaggeremo queste forbici E dovremmo fare Zazà Qua Aspetta Ecco Dobbiamo saltare Vedete La creatività Poi dobbiamo saltare Per aprirci la via di uscita Vediamo se c'è qualcosa altro Sì Ok Mi sono tipo fermato qua Vediamo se c'è qualcosa altro qua Have must Tempo Sì Devo pigliare un easter egg o qualcosa E' un easter egg Ok Allora Ecco qua Checkpoint No Non si taglia Ah ok Dovevo tagliare su Ok Ora non so cosa arriva Un razzo No Devo andare su Ok L' easter egg Aspetta Qua cosa dovevi fare Questa è una scala Giusto No R1 Ah si Era una scala Però tipo Non Boh Vediamo Ah andiamo di qua Certo che però La forbice è più grande Del stack boy Ok si Mi aspettavo che andasse Vabbè Ehm Emo Andiamo di qua Ok Tipo mi sono dimenticato Che qua Alcune cose Avviano nel copyright Altre no Quindi Meglio evitare Ehm Ehm E che dobbiamo fare Uh Te le trasporto Però Posso ritornare lì Ok No Devo Snip e snap Ah però di qua si Ok tipo è una cosa Che devo aprire dopo Mi sa Allora Andiamo di qua Tagliamo la corda Dovevo scendere No Dovevo buttarci No E che dovevo fare Vediamo Vediamo Vai Perché qua dice Tagliare la corda Ok È almeno tagliato No Però Giù Giù non mi fai Ah spero No Non è Tanto perché c'è C'è qua Una mela Una Con una cosa Della mela Che dorme Così Zac 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 Ok Non è che mi dici Dove puoi andare Eh no Dove Ciao ciao Ritorniamo qua Eh Mo che devo fare Beh forse Eeeh Ok È che lo sapevo Che dovevo spostare Quello Ok Mm Quel tipo là Uh Taglia 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 Chi schifo Il bagarrozzo Uh Un'anima Un numero di telefono Pure Oh No Ok E stavolta però C'è la freccia No C'è stavolta la freccia Ce l'hanno messa Prima no Dovevi andarci Intuito Va Ecco qua In buone maniere Si risolve tutto Ok Formaggio Formaggio Gatto Mi sa che qua Dovei tagliare Uh Ok Questo mi piace molto Devo dire Uii E siamo qua Mm Devo tipo fare Uh Ah qua devo Tagliare la cosa Ecco Piano 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 Ok Little big planet central Mm Ok Mo tipo Mm Questo è bello No Ok devo fare Cioè devo Andare lì O cosa Ah si Ecco qua Devo tagliare Come sempre Ah eh Oh eh 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 La fregatura però Vai 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 Ok Siamo ritornati qua Uh Bar 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 Beh Complimenti ai proprietari Del bar Proprio Ah Quello Devo fare Ah ok Tagliare Devo tagliare Al volo Praticamente Vediamo No Ora non c'è bisogno Ah ok Per poi andare Di qua E Mm Devo far partire Giusto No Non è Girava Vai Attenta La testa Se mai Ok Uh Che profondità No No Devo tagliare L'erba davvero E questo è un tocco Di classe Però con le forbici No Perché vado Le Ok Ok Ah Da quel capitolo L'erba Rallentava La cosa Mm Snip Snap Snip Snap Ok Ormai Ormai Ci ho preso Ah Questa è una roba Che tipo Dovevo tagliare Ah Pratico Quelle buste Da quel capito Sarebbe Una sorta Di Di Extra Di bonus Che Immagino Che si è preso Tutte Che se Si prendono Tutte Quante Si accede A qualcosa Di Eh però Tipo Cioè Prima mi ero avvicinato Ma Ah ok Ah ah ok L'obiettivo Dovevo tagliare Prima Non l'ho fatta Vabbè Fai niente Prossima volta Perché questa è la prima volta Che gioco sto livello Uh king kong No No Volevo buttarlo giù No Non si può Ok qua cos'è Sto origami Allora aspetta Calma Vai Bello Allora Mmm Ah questo l'ho tagliato no Ah quindi dovevo andare di qua Piano No Ok Di qua Tagliamo Mmm Tre ciliegie Ehm Vabbè Tanto Non l'ho preso Fino e mo Qua mi pare che Se non sbaglio Ci si arrampica Giusto No Davvero Devo farmi tutto il Giro No Ah C'era un'altra cosa Da tagliare Ecco qua A posto Chi esco qua Buongiorno Uh No Ok qua che devo fare Tutta una serie di tagli Zacca 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 Uh Ops Ah ok dovevo tagliare Fino a quando Non si sbloccava La situazione Ah apperti che Immagino che sia un rallenti Tipo ninja Tipo figo Tipo Ehm Sblocco qua il postino Ok C'è come Anzi scivola 3 2 1 Uiii Ok Ci hanno Volpe No devo giocare A sasto Carta forbici Ah Troppo Ah Ah Ma ho capito E' tutto pieno di forbici Roche Oh come Ah forse Nel lato opposto Quindi devo scegliere la carta Per forza Perché Paper Ah ok Da tagliare Ah già perché giustamente la forbice Ce l'ho io in mano Tutta una Una logica giapponese Che sanno solo l'or Ok Ah ok Però Stavolta devo Giocare A sasto Carta forbici Però Al volo Vai Vai Ok Ce l'ho fatto a volo Ok Riuscivo ad entrare nel buco Si Taglia uno Taglia quell'altro Ah ecco Per far avanzare il foglio No Ah si 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 prosegue Ok Uh Biondo proprio Cut off Line Presented by you Camone Camone Ok Thank you for playing Whee Uh Uh Eh qua i cambi di scena Ah beh Questo è un tocco di classe Vuol dire Eh perché c'era l'extra Però l'extra era solamente per due Cioè Più Persone dovevano giocare Guardate Togliamole Facciamo vedere un po' di me Nemmeno Ok Vi faccio vedere un altro livello Veloce veloce Snowboarding Proviamo un po' com'è Gioca da solo Ok Siamo Ok Già qua si mostra un pochino La materialità Che devo fare Qua mo Uh 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 lo skateboard Uh Tipo se devo fare qualcosa Dimmelo No non c'è un'indicazione Nella cosa Niente Uh aspetta ho mostrato qualcosa Cos'è Uh 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 lo skateboard Uh ho perso lo skateboard Aspetta Torna qui Eh Ma si è perso lo skateboard Ah ok Già ho finito Bello Rifare Ok una vita e poi muori Quindi Ok però almeno dammi l'indicazione Che uno Quello è lo skateboard E due se premevo R1 Dovevo tenerlo Ecco qua No 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 Regoliamo la cosa No 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 Piano piano No 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 Piano No no Vai dritto Vai dritto No Che poi arriva il fumo Sì ma lo Ma lo Dello skateboard Lo snowboard È proprio Cioè Quasi di carta Dico Vai 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 Adesso c'è Forse È perché sto Sto attaccato Al coso davanti Dove stare dietro Perché Stare dietro È sempre buono Che stare davanti Perché Vabbè lasciamo stare perché Wii Si vola Ma non si arriva mai Come Come ho fatto Vabbè giustamente Mi sono anche schiantato Ma va bene così Ok Niente signori Questa è la little big planet I livelli sono a miliardi Di miliardi Però questo è un gioco Che ci sarà a settembre Perché Davvero è un gioco Molto bello Uno dei pochi giochi Che ho su PS4 Lo capito È giusto approfittarne E niente Grazie per aver guardato Questo episodio Lasciate un like Se vi è piaciuto E dal film È tutto Io vi saluto E ciao a tutti Vediamo se riesco a farlo Con le mani Ciao a tutti Senza il dito Vabbè Ciao a tutti